Next Limited Edition, con un vantaggio cliente di oltre 2.600 euro. What's next? Scopri le tre versioni su mercedes-benz.it Concessionario ufficiale di vendita a Mercedes-Benz, DAG Auto, variante Est, mano calzati. 0825 67 52 02 Belsito Hotel Le Due Torri, a mano calzati, a circa 200 metri dall'uscita Avellino Est, della Napoli Bari. www.belsitotelduetorri.it Buonasera, buonasera a voi. Direi bene, grandissima prestazione della squadra, santuosa per me, è la prima mezz'ora. Poi abbiamo commesso quell'errore in disimpegno che ci ha costato il gol. Siamo un attimino snaturati come struttura. Tra il primo e il secondo tempo abbiamo parlato, abbiamo ricorretto un attimino la squadra, con l'ingresso non allungavamo mai, solo a delle mani davanti non poteva allungarmela la squadra. Invece con Umberto, il nuovo arrivo, Eusebi, ce l'ha permesso questo e meritavamo qualcosa in più di la verità. Come prestazione assolutamente sì, lo abbiamo sottolineato. Quello che però stavamo sottolineando è soprattutto il carattere di questa squadra. Al di là della tattica, del gioco che come diceva giustamente lei, si è visto soprattutto nel primo tempo. È un Avellino che ha dominato il lungo e il largo, una squadra corta, compatta. Però si è fatto quest'oggi un po' fatica soprattutto a costruire gioco centralmente. Con Paghera e Deomeongas è sentita l'assenza di D'Angelo, ma si sente soprattutto l'assenza di un regista puro che porta il nome di Moretti. No, ma direi la verità, tutto ha uno step. Questi sono arrivati e non hanno mai giocato. Devo dire che oggi Ho Mangà ha fatto una gran partita, lo stesso Paghera ha fatto una grande partita. Che non era facile, perché loro avevano una mezza punta dentro le linee, molto brava, tremolata, che ti poteva far male. Loro hanno giocato come piace a me e ovvio che qualche passaggio sbagliato ci sta, ci può stare. Consentitemi questo, ma di questo io credo che c'è da alloggiare la squadra, tutti. Poi sono entrati, quando il campo già era molto aperto da parte loro. Moretti è entrato e ha fatto, però Moretti deve ancora migliorare la prestazione fisica, non certamente quella delle giocate, perché è un giocatore straordinario su tutto questo aspetto. Sono convinto che possiamo nettamente migliorare su questo. Ecco, negli ultimi 20 minuti abbiamo giocato di lì, abbiamo iniziato a giocare come piace a me, con grande prova di carattere, con grande voglia. E' un peccato, meritavamo così in più. Ecco, mister, dicevamo anche che questo è un punto importante, perché? Perché dà continuità ovviamente alla serie che si è inanellata. Sono 8 punti in 4 giornate, considerando le ultime del girone di andata. E' un punto importante soprattutto per il morale, perché nel malagurato caso di una sconfitta che non c'era, certamente il morale ritornava ad essere basso. Invece questo pareggio va a letto con un'ottica diversa, con un entusiasmo diverso. E' diverso, consentitemi anche l'apporto del pubblico, è stato molto importante negli ultimi 20 minuti, perché la squadra l'ha portata su, insomma. E' determinante questo, è determinante anche il risultato sotto l'aspetto del morale, come diceva bene tu. Al di là di questo io credo che noi stiamo strutturando una squadra importante, importante per il nostro periodo, per la nostra classifica. Come ho detto prima ieri a alcuni colleghi, è una montagna. La montagna non si può scalare tutta una volta. Ci vogliono dei momenti di step, perché non ce la fai sempre a salire come si vuole. Si è subito messo a disposizione Eusepi, circa 40 minuti di gioco, considerando anche i minuti di recupero. Non conosceva gli schemi, non conosceva gli giochi, però quello che contava era soprattutto il carattere che ha dimostrato in questo secondo. Non avevo dubbi, io lo conosco bene, lo conosco bene. Deve un po' dimagrire, mi sa. Gli ho già detto. Al di là di questo, ecco, si deve abbassare sul mediano basso l'oro, si è abbassato. Due raccomandazioni le ha fatto anche Edoardo. Gli ho detto di dirlo, è un bimbo che è molto bravo, anche lui. Io credo che stiamo strutturando, nonostante che abbiamo lavorato poco con lui, ma ieri Edoardo e i miei collaboratori ci hanno lavorato insieme. Gli hanno spiegato che cosa voglio io. E poi diventa un po' tutto facile, perché il calcio è semplice. E giocare con gli uomini più vicini per liberare un altro. E loro lo stanno facendo. E loro hanno fatto dei gol su nostri errori. Sennò non avrebbero mai fatto gol. Le passo al collega D'Avenia dallo studio. Mister, buonasera e ben ritrovato. Vorrei partire subito dall'ultimo arrivato. Umberto Eusepi, nei suoi schemi finora abbiamo visto sempre Ardemagni affiancato da una mezza punta, da una seconda punta, verde o Castaldo. Quest'oggi, nel secondo tempo, abbiamo visto contemporaneamente Eusepi ed Ardemagni. È una soluzione che ha adottato per il risultato? È una soluzione che possiamo vedere anche più avanti, con due arieti puri come Eusepi ed Ardemagni? Ma io credo che, al di là dei moduli, sono convinto che, e l'importante sono le strutture che stiamo facendo, la loro disponibilità a giocare. Il modulo non c'entra. Io penso che possono giocare insieme perché ci sono dei momenti che uno si deve abbassare, dei momenti che uno si deve alzare. Devo dire che i miei collaboratori ieri hanno spiegato benissimo a Umberto appena arrivato, quello che volevo. Oggi l'ha fatto, l'ha fatto all'80% perché gli altri 20 doveva essere basso lui su Troiano a non farlo tirare. Parlando sempre dei volti nuovi... Però io credo che... Sì, sì, prego, 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 mister. Va bene, mi dica, scusi. No, 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 pensavo avesse finito. Credo che la disponibilità è da parte di... La disponibilità è da parte di tutti, insomma. Io credo che la voglia di far bene, la voglia di salire, c'è da parte di tutti, questa classifica, ecco. Parlando sempre dei nuovi, Federico Moretti ha trovato un bellissimo gol quest'oggi, che ci ha regalato il pareggio. Quali sono le reali condizioni di Moretti? Tra quanto tempo, secondo lei, riusciremo a vederlo dal primo minuto? Eh, ci manca poco. Oggi ha dimostrato tutta la sua capacità, è un giocatore che sa ripartire, far ripartire la squadra con una certa velocità. Sono convinto che lui ha bisogno ancora di lavorare un pochettino di più, però oggi già ha dimostrato tutto il suo valore, ecco. In occasione proprio del gol di Moretti, del 2-2, mi sembra di aver visto un'esultanza di mister Novellino sotto la tribuna, o sbaglio? Sì, no, esultavo, perché ci sono dei giocatori che anche se sbagliano devono essere aiutati. Esultavo per questo, perché noi siamo una squadra che sta costruendo qualcosa di importante, perché veniamo anche da un periodo non bello. Ci sta che uno possa sbagliare uno o due passaggi, ma alla fine non importa per me se sbagliano. L'importante è che c'è la cattiveria agonistica, c'è la convinzione di quello che fanno. Era un segnale di dire incitiamo questi ragazzi, hanno bisogno di essere aiutati, perché gli stanno dando delle soddisfazioni belle, ecco. Tutti i risultati di quest'oggi hanno restituito una classifica che l'Avellino può guardare sicuramente con ottimismo. C'è stato un risultato in particolare, la vittoria del Trapani, prossimo avversario dell'Avellino sul campo della Provercelli, che fa capire ancora di più come la corsa salvezza non ha estromesso ancora nessuno. No, ha ragione lei, credo che, come ho detto prima i suoi colleghi, è una montagna che va saputa scalare, e devo dire che oggi, onestamente, se perdiamo questa partita c'era da rimanerci male. È ovvio, questa è la Serie B, il Trapani è una signore squadra, è una squadra che ha dei giocatori buoni, però anche l'Avellino può dire la sua. Ecco.